Millie Vitale, la famosa attrice italiana la cui bellezza e talento hanno onorato gli schermi cinematografici nazionali e internazionali, ha vissuto una vita di glamour intrecciata a dolori nascosti. Il suo viaggio nel mondo del cinema è stato segnato dal successo, ma ha portato il peso di lotte personali rimaste nascoste dietro la bagliante facciata della fama. In questo saggio, approfondiamo la vita di Millie Vitale, esplorando gli alti e bassi, i trionfi e le storie non raccontate che hanno definito la sua esistenza. Nata il 16 luglio 1933 a Roma, in Italia, il destino di Millie Vitale come intrattenitrice sembrava essere scritto nelle stelle. Il suo viaggio nel mondo della recitazione è iniziato in tenera età, quando il suo carisma innato e il suo talento grezzo erano già evidenti. Dotata di un aspetto sorprendente e di un dono naturale per la recitazione, ha iniziato la sua carriera di attrice in un momento in cui il cinema italiano stava vivendo una rinascita. Il debutto cinematografico di Millie avvenne nel 1949 quando apparve nel film Il Paradiso sopra le paludi. La sua performance ha dimostrato un talento promettente che presto avrebbe catturato il cuore del pubblico. Mentre continuava ad abbellire il grande schermo, la sua carriera raggiunse nuovi livelli. Uno dei suoi ruoli più importanti è arrivato nell'iconico film Vacanze Romane, 1953, dove ha condiviso lo schermo con le leggende Audrey Hepburn e Gregory Peck. La sua interpretazione dei cameo del personaggio, un fotografo, ha messo in mostra la sua versatilità come attrice e ha consolidato la sua reputazione di stella nascente nel settore. L'incantevole bellezza di Millie e l'accattivante presenza sullo schermo l'hanno resa una delle preferite sia dai registi che dal pubblico. Il viaggio di Millie vitale nel mondo del cinema è stato senza dubbio glamour. Era celebrata non solo per la sua abilità nella recitazione ma anche per la sua eleganza e raffinatezza. Il suo senso della moda e il suo stile unico l'hanno resa un'icona della moda della sua epoca. Il fascino di Millie si estendeva oltre il grande schermo, rendendola una presenza ambita nel mondo dell'alta società e delle celebrità. È apparsa spesso in ruoli che mettevano in mostra la sua capacità di incarnare vari personaggi, dai drammi romantici alle commedie, dimostrando la sua straordinaria gamma come attrice. La sua capacità di affascinare il pubblico, indipendentemente dal genere, era una testimonianza del suo talento. Dietro lo sfarzo e il glamour, la vita personale di Millie vitale porta il peso della tristezza e delle difficoltà, che spesso passano inosservate agli occhi del pubblico. Come molte persone nel settore dell'intrattenimento, ha affrontato le sfide uniche che accompagnano una vita sotto i riflettori. Le pressioni della fama, il costante controllo dei media e i sacrifici richiesti da una carriera impegnativa hanno avuto il loro peso. L'industria dell'intrattenimento, nota per la sua competitività e la sua natura spietata, spesso lascia poco spazio alla felicità personale. La solitudine che può accompagnare la ricerca del successo, unita alle sfide legate alla gestione delle relazioni personali in un programma frenetico, può portare a momenti di profonda tristezza. Anche se i dettagli specifici di questi tristi episodi della vita di Millie Vitale potrebbero non essere ampiamente documentati o conosciuti, è essenziale riconoscere che, anche in mezzo allo sfarzo e al glamour, il mondo dello spettacolo può essere un luogo stimolante e solitario. Millie Vitale è morta il 13 novembre 2006, lasciando dietro di sé un'eredità di eccellenza cinematografica e bellezza senza tempo. Sebbene la sua vita possa aver contenuto dolori nascosti e lotte personali, rimane impressa negli annali del cinema italiano e internazionale come simbolo di abilità artistica e grazia. In conclusione, la vita di Millie Vitale è stata un misto di divismo e ombre. Il suo talento e il suo fascino hanno lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema e il suo senso unico dello stile l'ha resa un'icona della moda duratura. Tuttavia, i dolori nascosti e le lotte personali che ha dovuto affrontare servono a ricordarle in modo toccante che la ricerca della fama e del successo spesso comporta un prezzo. La vita di Millie Vitale è una testimonianza della complessità dell'esperienza umana, dove anche tra le luci più brillanti, possono persistere le ombre.